Ciao ragazzi, io sono Redda e questo è il Monopoly Soft Air Shop. Oggi recensiamo una pistola, una pistola di cui non si parla tanto, ma che è una bella rinfrescata di palato per tutti coloro che sono, come spesso accade, stufi delle solite Glock, delle solite Beretta, o in generale di tutti quei modelli presenti all'interno del panorama Airsoft per repliche side arms, quindi pistole o comunque armi secondarie, che insomma hanno un po' stufato le palline. Ecco che oggi parliamo della Smith & Wesson MP9 Performance Center. Questa bambola è veramente molto interessante per tutta una serie di features, tra cui una delle mie preferite, ovvero che ha un rinculo e uno scatto del grilletto veramente on point, veramente ben curate e ben fatte. Non mettiamo i carri davanti ai buoi, quindi partiamo con la recensione, ma prima sigla. Sì, come temevo, non sei iscritto al canale, non hai attivato la campanellina e peggio di tutto non sai che siamo un negozio di software attrezzatura tattica di Reggio Emilia con incredibili prodotti e prezzi. Questo è un problema, ti conviene guardare in descrizione. Trovi tutto lì. M e P9 Smith & Wesson, logo originali, prodotta da Umarex, quindi estremamente fedele alla controparte reale, con una ergonomia molto interessante. Sapete che io sull'ergonomia sono un pochino, insomma, puntiglioso perché sono abituato con, insomma, delle armi ben ergonomiche. Battuta parte sui soliti battibecchi di preferenza, da un modello all'altro, questo modello di pistola è veramente ben costruito, sia per la qualità del polimero che compone l'impugnatura, sia per l'ottima qualità del carrello, che è fatto in alluminio. Subito, appena preso in mano, ero convinto fosse in plastica, tanto era leggero, ma no, è alluminio, è stato tagliato e rifinito veramente molto bene. Ovviamente è tappezzata di loghi originali veramente ben posti, compresi anche alcuni loghi che lasciano un attimo confuso chi l'acquista, come per esempio qui dove c'è scritto Cation capable of firing with magazine removed, che sostanzialmente vuol dire che la pistola può sparare anche senza il caricatore inserito. Io la prima volta l'ho tirata fuori perché avevo immaginato che caricasse una molla e il resto, e ovviamente no, la pistola senza il caricatore all'interno non spara, e questa scritta fa riferimento al modello vero che se ha armato un colpo all'interno della canna, anche senza il caricatore, può effettivamente andare a sparare un colpo. L'altra cosa molto interessante è che è una pistola che è stata utilizzata parecchio sia da forze dell'ordine che dall'esercito, principalmente in America, e molti che hanno fatto servizio là hanno avuto modo di fare pratica ed essere addestrati utilizzando questo modello, cosa che mi ha stupito e allo stesso tempo dà un pochino più di contesto a una replica un pochino particolare rispetto alle solite. Il modello originale ovviamente è prodotto in America, prodotto dalla Springfield, Smith & Wesson. Che dire ragazzi, è emblematica, si percepisce l'America che trasuda da ogni poro, ma ci sono degli altri aspetti di ergonomia, funzionalità di cui vorrei parlare adesso. Personalmente uno degli aspetti che mi interessa di più su questo modello è il grilletto, che come potete vedere è fatto leggermente diverso dal solito e ha questa parte finale, quindi la punta del grilletto, che funge da sicura, infatti si piega senza dover azionare tutto il grilletto. Questo è importante perché se noi andiamo a premere qua in alto, come vedete, la pistola non scatta, mentre se la premiamo qui arriva al wall e poi vado a far scattare tutto il meccanismo. Troviamo ovviamente un rail da 20 mm che ci permette di andare ad attaccare torce e vari accessori alla pistola. Un altro elemento in più che chi come me è abituato, visto che abbiamo P320 e modelli affini, c'è la possibilità di andare a rimuovere questa parte del carrello superiore, che non era a fuoco, per andare a montare direttamente un mirino laser optoelettronico, come lo volete chiamare. Si poteva dire redotta MRR, però insomma non ce la possiamo fare noi a trovare le parole in maniera semplice. La canna qui in alto, come potete vedere, è stata alleggerita e scanalata, nella realtà immagino sia per alleggerire il carrello che per far respirare un pochino tutto il corpo della pistola, non far surriscaldare la canna. Le tacche di mira sono simili a quelle dell'FNX45 o molto più semplicemente della P320 Six Hour, quindi sono leggermente più alte rispetto alla media. Questo ad alcuni piace, ad altri no, io mi trovo un pochino nel mezzo, ma ve ne parlerà War nel suo War Rage. Sulla parte finale del carrello sono presenti delle ondine scanalate che ci permettono di andare a armare più facilmente la pistola ed è ovviamente provvista di blocco del carrello a fine colpi e di sgancio ambidestro di suddetto carrello. Si chiude e fa dei rumori spettacolari ed è quello di cui parliamo adesso. Come sapete io rompo sempre le scatole per il realismo, per avere le cose fatte come dico io, per avere tutta una serie di cose, tua madre per i banali o qualunque altro tipo di camion di sci, è della minaccia, forse non metterlo nel video. Uno degli aspetti che mi ha portato a voler parlare di questo modello di pistola in particolare, oltre al design che ovviamente affine ai miei gusti, è il fatto che abbia delle performance e delle caratteristiche ergonomiche molto, molto curate e molto, molto interessanti. Prima di tutte, lo scatto del grilletto e il rinculo del carrello. Su questo modello, come abbiamo visto, c'è un grilletto particolare. La sicura è sia grilletto, ma al posto di avere la solita sicura grilletto, solita della Glock, la troviamo sulla parte finale del grilletto. La pistola presenta un wall, quindi il grilletto, ho detto grilletto un grilletto di volte, quindi come vedete portiamo il grilletto lì, questo è la fine del wall, e se premiamo di nuovo la pistola scatta. Non solo lo scatto è estremamente leggero, ma c'è da aggiungere che le forme di questo particolare grilletto vanno ad avvolgervi il dito e vi sentite accompagnati lungo tutta la strada che porta a trovare il wall e poi dopo andare a staccare. Vi faccio vedere, armandola molto piano, quanto è morbido. Sono arrivato al wall, scatto. Veramente ben fatto. Per quanto riguarda rinculo... Per quanto riguarda il rinculo e in generale le performance, uscirà un grill dedicato insieme a questo video su Instagram, quindi veniteci a seguire su Instagram, se no non avrete mai idea di quanto è fenomenale il rinculo di questa pistola e in generale la sua precisione. Un altro aspetto molto importante è che è stato implementato su questo modello un sistema di blowback, quindi rinculo in inglese, della pistola che è veramente bello, è piacevole e ricorda vagamente quello della versione originale. Non arriviamo a una Glock Real Steel come livello di realismo, ma poco ci manca. E anche il cocking e lo sliding della pistola hanno dei suoni e un feeling quando vanno a muoversi veramente ottimi. Insomma, il realismo non manca sotto nessun punto di vista. Ah, ovviamente il rinculo è un pochino così fluido, anche perché il carrello è veramente molto leggero, quindi la molla tende a spingere un pochino più forte. Il rinculo avanzato, enchanced, come lo chiamano loro, è dovuto principalmente da questo aspetto. Per quanto riguarda ergonomia, mi trovo veramente bene sia da mancino che è da destrorso. L'impugnatura mi piace molto, trovo che blocchi perfettamente la mano che impugna e lasci abbastanza spazio alla mano di sostegno per poter operare la pistola in maniera perfetta. Il tasso di rilascio del carrello è ambidestro, come detto, ma stessa cosa non vale per lo sgancio caricatore, che però può essere spostato, ovviamente andando a smontarlo e portato dalla parte sinistra a quella destra. Smontare la pistola è estremamente semplice, ci basta portare indietro il carrello, tolto il caricatore, ovviamente, non c'è neanche bisogno di dirlo, andiamo ad allineare mezzalunino che c'è qui, possibilmente vedendo quello che facciamo. Dai! In questo modo e il carrello poi dopo si sfila in maniera semplice, veloce e soprattutto pratica. Questi sono gli interni, troviamo ovviamente un hop-up rotativo, non ci sono sistemi di regolazione dell'hop-up esterna, quindi non possiamo andarlo a regolare esternamente come su altri modelli, è un piccolo prezzo da pagare per una pistola che è praticamente perfetta. Prima di passare al Warrage e successivamente alle mie conclusioni finali su questo modello, vi do le ultime due note extra abbastanza importanti. Il funzionamento della pistola è Green Gas e funziona solo a Green Gas, non c'è la possibilità di avere caricatori ibridi tra Green Gas e CO2, tiene 21 colpi, quindi lo standard sostanzialmente, è questa bella bambolina qua, senza infamia, senza lode a mio parere, è un tipico caricatore da pistola Green Gas, più o meno sul livello di qualità di tutti i VFC ben fatti. E ultima cosa importante, ovviamente è stata colorata di rosso qui davanti, ma si può andare a rimuovere con un pochino di alcol e un pannetto, è giusto perché prima di essere venduta deve ovviamente rispettare le regole del monopolio di stato. Non c'entra assolutamente niente. Ciao ragazzi, ci sono War ed è il momento del War Rage. Abbiamo qui l'MEP9 Performance Center. Allora, ho già avuto un MP9, credo di sia stata anzi la mia prima pistola da soft air, non era così bella, era molto più scabrosa, era una W. Questo feeling mi fa tornare dieci anni più giovane, quindi praticamente ne ho nato. E non abbiamo detto, però una cosa nella recensione che è passata al War Rage, ve la faccio vedere io. Questa pistola monta il dorsalino posteriore vero, ed è quindi compatibile con quelli dell'arma vera. Perciò, come facciamo a rimuoverlo? Eventualmente togliamo il caricatore. Abbiamo qui sotto questo incredibile dentino che dobbiamo ruotare. Madonna se è duro. Ma le sto infilando. Una volta ruotato di 90 gradi, possiamo andarlo a rimuovere, semplicemente sfilandolo così. Eccolo qui, bellissimo. A questo punto abbiamo tolto il blocco che teneva ferma tutto il dorsalino barra pezzo di guancetta. Come è scritto all'interno, è la medium, quindi la via di mezzo. Ci sarà sicuramente anche una taglia LMXLXXLXS per ognuna delle vostre mani. War Rage va criticata. Cosa posso criticare di questa pistola? Allora, il materiale è molto, molto Glock Style. Cioè, questo polimero si vede che è polimero a me personalmente infastidisce. Nonostante ciò, stai zitto, nonostante ciò, sono riusciti incredibilmente a fare i loghi perfettamente puliti e anche, comunque, in mano è piacevole. È davvero piacevole questa ergonomia con, la possiamo chiamare, donna gravida al contrario. Non penso sia un buon periodo per farlo. Non binary gravido al contrario. Perfetto. Che comunque riesce a renderti incredibilmente comoda questa parte della mano e scomoda tutto il resto. Però, nonostante ciò, l'impugnatura finale è davvero, davvero positiva. Nonostante Fox abbia citato il mio intervento sulle attack animiera, non devo criticarle. Non devo criticarle perché la critica la facciamo allo stesso perché è un War Rage. Però, di fatto, il fatto che siano alte è unicamente positivo, come nell'Esecutor, perché montando un RMR, un mirino, un redot, riuscite comunque a usare le tacche di mira perché è più alte della base del mirino. Ma riuscite anche a usare il mirino perché comunque è un cacchio di redot. Perciò non ti va a coprire il dot, una volta montato non va a coprirti la linea delle tacche. Questa è una cosa molto positiva. La critica la farei sull'assenza in confezione delle tacche di mira basse, cioè le low profile. Perché? Perché avere l'obbligo di usare quelle alte. Sì, bella per il mirino, però c'è qualcuno che magari è allergico al vetro e quindi non può medicalmente montare un mirino e allora deve per forza cuccarsi se le tacche di mira molto alte. Ora, è grave più o meno quanto la P320, cioè alla fine, essendo un po' più bassa di carrello, va bene lo stesso. Però si percepisce che sono un po' altine. Nonostante ciò, i pallini delle tacche di mira, quindi i vostri riferimenti, sono estremamente ben visibili e di un bianco che definirei santo. Quindi, wow. L'ultimo grande difetto che possiamo trovare a lei è lo stesso che ha la VP9. È una pistola a singola azione a cane interno. Va bene, ma il fatto che andando ad armare questo sacrosanto cane, il cacchio di grilletto rimanga inchiodato e non chi cazzo, chi mi chiama? Che questa pistola, sulla carta, effettivamente così, è una singola azione a cane nascosto. Singola azione vuol dire che una volta disarmato il cane, non si va a riarmare premendo banalmente il grilletto, ma bisogna scarrellare e armarlo manualmente. Nascosto perché di fatto non riusciamo ad armarlo noi. Il problema è che andandola a scarrellare, controllate, guardate bene il grilletto, guardate il punticcello del grilletto e il grilletto. Andandola a scarrellare, quindi armando il cane, il grilletto rimane inchiodato. Questa cosa vuol dire che non arretra, come ad esempio le beretta, indietro, arrivando quasi fino al wall. Vi lascia sempre, comunque, la naturale corsa che avrebbe. Ora, è un ottimo grilletto, sì, ma la corsa, per i miei gusti, è davvero lunga. Però, se proprio di me trovavi un difetto è una pistola che sta in un limpo, quindi quasi perfetta, bisogna guardare anche le sottigliezze. Non ho altro da dire per questo warrage. Vi piace? È un buon acquisto? Sicuramente sì. Assemblione a Glock? Sì, ma riuscite a distaccarvi un pochino dalla massa. Quindi, approved. Io penso che un uomo che picchia la propria moglie non capisca assolutamente niente, perché è come se tu adesso prendessi le chiavi, andassi in garage, comunque non dai soddisfazioni, sei il peggior wingman di battute del mondo. Cosa dire dunque della MEP9 della Smith & Wesson? Beh, semplicemente che, finalmente, possiamo aggiungere una nuova pistola all'olimpo delle pistole da soft. Per chi non lo sapesse, le pistole che sono veramente perfette, possono essere utilizzate e meritano un posto all'interno di questo incredibile campo, pieno di cose stupende, sono veramente poche. La Glock 17 Gen 5, la P320 M17 Six Hour, un paio di pistole particolari, come un AP01, perché si può customizzare veramente molto bene, una barretta M9A3, perché, insomma, quella da software ce l'abbiamo dovuta mettere dentro, perché è stata richiesta a gran voce, e prima di questa la VP9. VP9 che è stata surclassata, per quanto mi riguarda, dall'MP9, che, forse come tecnologia, non equivale alla VP9, ma sicuramente sotto tutti gli altri aspetti è meglio. L'abbiamo posizionata nell'olimpo per due motivi principali. Numero uno, ergonomia, piacere nell'utilizzo e, soprattutto, affidabilità da parte dell'operatore. Cioè, ve la si mette in mano e l'operatore riesce a utilizzarla e, soprattutto, sfruttarla al suo massimo potenziale, senza limitazioni di alcun tipo. Il fatto che sia completamente identica al modello originale, perché è uguale, anche nell'ergonomia, tra l'altro, gioca un altro punto fondamentale. Infine, è veramente bella, è qualcosa di nuovo. È un modo per riprescarsi il palato che ci voleva, perché è da un po' che vediamo sempre la stessa roba. Sono sicuro che, parlando dell'olimpo delle pistole, io abbia dimenticato qualche modello, quindi se volete riportarci quali sono i modelli che voi preferite all'interno dell'olimpo delle pistole, potete farlo qui sotto. Se siete interessati a saperne di più su questo modello, trovate tutti i link in descrizione. Vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia e che potete comprare anche online tramite il nostro sito, che è anch'esso linkato in descrizione. Se non ci aveste già seguito su Instagram, fatelo, perché potete seguire sia me che al negozio e pubblichiamo una marea di contenuti che vi permettono di rimanere sintonizzati su tutte le novità che ci sono in negozio. Io sono Red, vi ringrazio di aver passato il vostro sabato insieme a me e, come al solito, stay angry! Grazie a tutti! Grazie a tutti.